Racconti e poesie per far volare le emozioni su ali di carta. L'idea dell'Istituto Romero di Albino è piaciuta anche quest'anno, a giudicare dai partecipanti al concorso letterario rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori lombarde. Filo conduttore della seconda edizione, la libertà e il tempo, ma anche la figura del pittore albinese Giovanni Battista Moroni, con la possibilità di scrivere un testo traendo spunto da un suo dipinto. All'auditorium comunale di Albino si sono svolte le premiazioni. Per la sezione Albino-Città del Moroni, vittoria di Federica Zoia dell'Isis e Inaudi di Dalmine. Per le scuole della Lombardia, la sezione riservata ai racconti ha visto al primo posto Viola Simeone del liceo classico Cairoli di Varese. Nella sezione poesie, affermazione di un'altra studentessa delle Inaudi, Maria Antonia in campo. Per quanto riguarda il Romero, invece, primo posto di Alice Lizzola, studentessa di quarta, nella sezione racconti. Di Greta Beccarelli, studentessa di quinta, nella sezione poesie. Siamo veramente contenti. Abbiamo avuto 209 testi in concorso da tante scuole della provincia e non solo. Abbiamo avuto anche alle premiazioni un afflusso veramente notevole di pubblico. Abbiamo superato le 150 persone presenti, quindi è stato veramente piacevole poter accogliere e premiare degnamente i vincitori guardandoci negli occhi. I testi sono stati veramente di qualità, quindi non solo una crescita di numeri ma anche proprio di efficacia letteraria e ci piace sottolineare alcune peculiarità vincenti di questa edizione. Anzitutto l'introduzione del premio Albino Città del Moroni. Abbiamo avuto dei testi ispirati ai dipinti del noto pittore albinese veramente interessanti. Abbiamo avuto il coinvolgimento dei genitori nella giuria, che è stata comunque come nostra caratteristica formata soprattutto da studenti e da insegnanti. E poi abbiamo anche quest'anno riproposto la creazione di un libro digitale che a breve verrà pubblicato sul sito internet dell'Isis Romero, che raccoglierà non solo i vincitori ma anche riflessioni, contributi, un'ulteriore selezione di testi. Daremo spazio insomma agli studenti. Ali Di Carta nasce con questo scopo, sceglie di aprirsi sia alla forma della poesia del racconto proprio per lasciare il più aperto possibile lo spazio di espressione per gli studenti e speriamo di poter crescere ancora anche i prossimi anni. Ha avuto valore sotto diversi punti di vista, ha consentito agli studenti di avere uno stimolo, una motivazione per cimentarsi nella scrittura. Noi sappiamo che oggi i ragazzi non facilmente amano la scrittura, è il nostro mondo di immagini, un mondo di messaggi molto brevi, istantanei e quindi il mettersi a scrivere è una sfida che non li attira molto. Invece la motivazione, la partecipazione al concorso ha consentito a molti docenti di motivare i loro studenti di fare un percorso di avvicinamento, di approccio e di scoperta anche del fatto che la scrittura è uno strumento per comunicare le nostre emozioni, per viaggiare con la fantasia, per davvero comunicare agli altri anche messaggi assolutamente importanti. Immaginiamo il valore della letteratura nella nostra storia e anche per capire il passato, il presente, ma per immaginare un futuro. Ci ha consentito ancora una volta di collaborare con i genitori, con il comune, quindi con altri soggetti e questo per noi è importante perché pensiamo che l'aprirsi al territorio, il proporre delle iniziative, il collaborare, dia una marcia in più alle attività che si propongono, quindi davvero una soddisfazione non ultima il potersi vedere in presenza.